Con Mohamed Touré esordio così dal punto di vista personale, dal punto di vista della vittoria di squadra, meglio non ci poteva essere? Assolutamente, meglio non ci poteva essere anche perché questa sera sono contento per me ma soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto di squadra. Visto che è un mese che lavoriamo veramente duro, siamo un gruppo giovane e siamo prefissati appunto proprio questo, di partire bene, di cercare di riportare quell'entusiasmo che era andato un po' perso. E stasera credo che al di là del risultato noi siamo riusciti a portare un po' di felicità e di pubblico grazie all'intensità, al nostro modo di porci in campo e nell'aiutarci che questo ha portato il risultato finale, è stata la cosa fondamentale. Mohamed è una grande ripresa con tanta difesa, con un atteggiamento giusto, tuoi canestri molto pesanti, Bianchi ha fatto bene, Lasagni ha fatto bene, però il contributo di tutti anche di fronte è una differenza fisica evidente. Certo, noi siamo questi, noi siamo una squadra che deve mettere molta più energia rispetto alle altre perché siamo molto giovani e quindi ovviamente non possiamo metterla sul piano dell'esperienza perché le altre squadre sono giocatori che giocano a questi livelli o che hanno giocato a livelli più alti da molto più tempo e quindi se la mettiamo sul piano dell'esperienza noi stiamo dietro a poche squadre, però se ci aiutiamo e giochiamo di energia e di intensità tutti insieme, partendo soprattutto dalla difesa che è il nostro punto di forza, secondo me possiamo fare veramente bene. Senti bello l'abbraccio finale, tutti insieme proprio a testimonianza che siete un gruppo che si conosce da un mese ma siete già un bel gruppo unito. Certo, ci conosciamo da un mese ma è come se ci conoscessimo da una vita e l'abbraccio finale è proprio l'emblema di come questa sera abbia trionfato il gruppo e non il singolo.